Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come L'influencer ed ex moglie di Francesco Sarcina sta facendo discutere per una particolare Instagram Stories pubblicata nelle ultime ore Che cosa è successo? Clizia Incorvaia è una modella influencer, nata il 10 ottobre del 1980 a Pordenone Nel 2020 ha preso parte al grande fratello Vipe e all'interno della casa ha conosciuto Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgia di Massimo Ciavarro I due si sono innamorati e ancora oggi sono compagni di vita Inoltre, sono genitori di Gabriele, nato a febbraio di quest'anno Ma di quale discusso episodio si è resa protagonista su Instagram nelle ultime ore? Ecco tutto quello che c'è da sapere su questa vicenda Clizia Incorvaia e il discusso episodio.Clizia Incorvaia, prima di conoscere Paolo, è stata sposata con il cantante delle vibrazioni, Francesco Sarcina I due, dopo il matrimonio nel 2015 e dopo la nascita della figlia Nina, avvenuta lo stesso anno, si sono lasciati nel 2019 Ma a quale tipo di corna si fa riferimento? Che cosa è accaduto nelle scorse ore, fra l'influencer e il figlio di Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi? Ecco tutti i dettagli Le corna.Due sere fa, Clizia Incorvaia e il suo compagno Paolo Ciavarro, sono stati protagonisti del programma televisivo Alessandro Borghese, Celebrity Chef Il format del programma è sempre lo stesso. I due concorrenti in gara sono sempre due personaggi famosi del mondo dello spettacolo, i quali si contendono la vittoria della puntata come miglior chef Nel programma, i protagonisti sono tenuti a preparare tre piatti nel ristorante di Alessandro Borghese Essi saranno valutati da alcuni giudici, i quali decreteranno il vincitore della serata E com'è andata a finire ieri sera? A vincere la puntata è stata Clizia Incorvaia, la quale ha sconfitto il suo compagno di vita Paolo Ciavarro L'influencer ed ex moglie del cantante Francesco Sarcina, frankman delle vibrazioni, ha pubblicato tantissime Instagram stories in riferimento alla puntata di ieri sera del programma condotto da Alessandro Borghese E in una di queste ha preso in giro il suo Paolo, postando un sondaggio precedente alla puntata, nel quale tutti erano sicuri di una sconfitta della influencer Lo ha fatto postando i risultati del sondaggio e facendo delle vistose corna, come sfottò al suo compagno Tantissimi commenti piovuti sulla pagina Instagram di Clizia Molti followers hanno apprezzato la performance dei due innamorati e si sono complimentati con lei per la vittoria finale nella guerra in famiglia ai Fornelli Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video